Senza neanche attendere la fine di questo campionato arriva l'ufficialità del rimpasto all'interno della società del Foggia Calcio. I fratelli Curci lasciano gratuitamente le proprie quote a Franco e Fedele Sannella. Il Foggia passa nelle loro mani dunque con la totalità del comando. Un freddo comunicato del Foggia Calcio aveva annunciato l'ufficialità della cosa con i nuovi proprietari del 100% che poi hanno mantenuto il silenzio nelle ore successive. Dalla parte di chi lascia invece la soddisfazione di aver contribuito alla promozione in B del Foggia si mescola con l'amarezza di non poter proseguire in questo percorso. Passaggio doloroso ma bisognava farlo secondo me per forza. Io sinceramente sono rimasto deluso. Abbiamo deciso comunque di parlarne domani o comunque nei prossimi giorni. Si apre un nuovo ciclo e nel calcio come in politica nulla è definitivo. Nuovi scenari all'orizzonte e chissà anche la possibilità di nuovi innesti in società con l'intento di rendere grande il Foggia Calcio.